Il campo basso perde per mano del San Nicolò Notaresco, gli abruzzessi corsari a Selvapiana legittimamente al 91esimo. I rosso-blu sono scarsamente pericolosi nell'arco della partita e vedono sfumare il pareggio nel finale. Giornata rosso-blu giungono circa 600 spettatori di cui una manciata da Notaresco cerimoniale nel quale il pubblico della Nord ha preparato una straordinaria toccante coreografie in occasione del decennale dalla scomparsa del capitano di tante battaglie del campo basso Michele Scorrano. Compare proprio il volto di Michele e la scritta c'è solo un capitano tutto questo mentre il capitano attuale Danucci accompagna la famiglia sotto la Nord dove avviene l'omaggio floreale con rose rigorosamente rosso-blu. Cominciano meglio gli ospiti con una conclusione di Moretti in area deviata da uno di casa poi da spostito in calcio d'angolo dopo appena un minuto e mezzo. La partita è intensa ma senza grosse occasioni da gol ci prova al venticinquesimo Minella con un destro in corsa fuori misura al ventinovesimo da Dalmazzi a bontà che trova la parata sicura disposito. Al trentacinquesimo cross di Giacobbe Cogliati si fioda sul pallone con un avversario. L'arbitro dice che si può riprendere con una rimessa del portiere ospite. Il campo basso gioca troppo schiacciato merito anche di un avversario giunto a Selvapiana con l'intento di portare a casa i tre punti al quarantatresimo e bontà a sottrarre palla a Danucci chiedono il fallo i campobassani. Bontà poi calcia molto male e a lato finisce senza gol il primo tempo. Con le immagini siamo nella ripresa all'undicesimo c'è il destro forte di Moretti respinto da Magri con qualcuno del notaresco che ipotizzava anche un tocco di braccio del difensore del campo basso ma non vengono ravvisate irregolarità dal signor Cavaliere di Paola. Bagatti dal tredicesimo fa entrare Islamai al posto di Salvatori al quarto d'ora e Giacobbe a girare alto con il destro una buona palla gol. Intorno al diciottesimo in campo anche Musetti al posto di Cogliati nei rosso blu. Un solo minuto più tardi il destro di Bontà è destinato al fondo. La partita rimane interessante ma il gol è questo grande sconosciuto. Al ventinovesimo a provarci e Bontà con un destro a giro su cui si deve tuffare Sposito. La girandola di Cambi non si arresta nei rosso blu. Entra anche Antonelli al posto di La Barba. Replica ospite con Rucci che rileva la ringe. Al trentacinquesimo in verticale da Danucci ad Islamai che crossa bene presa con brivido in due tempi di Monti. Gli aggiustamenti di Bagatti fanno sentire i propri effetti. Al trentottesimo triangolo rapido da Alessandro a Musetti che chiama Monti ad una deviazione in calcio d'angolo. Sarà una delle palle gol più rilevanti di tutta la partita per il campo basso. I rosso blu soccombono nel finale. Comandati quattro minuti di recupero al primo dei quali Moretti disegna un bel cross corretto in rete di testa da Candellori. Preciso l'impatto con la sfera del centrocampista ospite da qui in avanti rimarrà poco da giocare. Inconsistente la reazione del campo basso che torna a perdere a Selva Piana dopo quattro mesi di imbattibilità. Per il notaresco è una vittoria che consolida la zona playoff per il campo basso. Una brusca frenata che allontana temporaneamente il quinto posto.